In classe con la settimana corta, da lunedì al venerdì, sono ormai tanti gli istituti in provincia di Verona che quest'anno hanno optato per la chiusura delle scuole il sabato. Tra queste tutte le sedi dell'Agrario Stefani Bentegodi. Dalla città Legnago, da Isola Villafranca, tante sono le scuole che quest'anno hanno optato per la settimana corta, sui banchi da lunedì al venerdì e il sabato a casa. Tra le novità di quest'anno, l'adesione di tutte le sedi dello Stefani Bentegodi, la scuola agraria della provincia veronese, alla settimana corta, che chiude dunque i cancelli il venerdì pomeriggio per riaprirli il lunedì. È una grande novità, è una novità che va verso alcune esigenze familiari e nello stesso tempo anche che richiede una nuova didattica. Pertanto il sabato tutte le nostre scuole saranno chiuse e confidiamo che questo potrà essere un importante motivo di profondo cambiamento, anche perché poi sappiamo che da una parte le esigenze familiari e nello stesso tempo anche determinate attività degli studenti beneficiano della settimana corta. E questo è il nostro anno scolastico, ricordo che l'Istituto Stefani Bentegodi è l'istituto dell'istruzione agraria della provincia di Verona. Insomma la scuola si ammoderna anche dal punto di vista degli orari per venire incontro alle esigenze di genitori e studenti e contando sul rinnovato entusiasmo alla riapertura del lunedì grazie al meritato riposo prolungato. A fra poco con gli approfondimenti della terza pagina. Grazie per la visione!